L'imponente ondata di maltempo che ha colpito la costa adriatica ha causato diversi danni e disagi anche nel Terramano. Sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rallagamenti dovuti al sistema fognario i cui tombini non sono stati in grado di assimilare le abbondanti precipitazioni, problematiche queste che in questi casi di maltempo vengono a galla in maniera chiara e netta. Il maltempo ha spazzato via il ripascimento effettuato in vista dell'estate nella zona nord di Alba Adriatica, già duramente colpita dalle mareggiate in inverno ed ora è praticamente tutto da rifare. Questo è un film che abbiamo sempre visto e che abbiamo sempre preannunciato. Ovviamente il ripascimento non è la soluzione di tutti i mali, è un tamponamento temporaneo che però ha un rischio che è quello della dissoluzione immediata non solo dell'utilizzo della sabbia ma soprattutto anche dell'impiego economico finanziario. Abbiamo avuto modo in questi ultimi vent'anni e ripeto vent'anni che hanno contraddistinto una cosa in particolare che accomuna tutte le amministrazioni, il fallimento totale della gestione di questo tema. Le organizzazioni di categoria si sono adoperate così come anche in altri territori anche a rendersi utili con degli strumenti tecnici che ad oggi hanno avvalorato ciò che è avvenuto ma in realtà nessuno è stato in grado di avere il coraggio, la lucidità e anche la dignità di prevenire un'azione a tutela di un segmento così importante che sarà sempre peggio e che coinvolgerà man mano più territori possibili. Vuoi per una fase naturale spontanea dell'erosione ma vuoi anche per delle errate e a mio avviso irresponsabili decisioni che sono state concesse a territori limitrofi che poi hanno creato degli effetti domino e dannosissimi ad altri affiancati come in questo caso della Vibrata ma potrei dire anche altri casi dell'Abruzzo.